Un appuntamento alle nove, trasdotta dal web. Erano le otte e trenta di una mattinata intensa quando un signore ottantenne è arrivato per far rimuovere i punti dal suo pollice. Disse subito che era di fretta perché aveva un appuntamento alle nove. Presi nota dei suoi dati e lo invitai a prendere posto. Sapevo che ci sarebbe voluta più di un'ora prima che qualcuno potesse occuparsi di lui. Lo vidi controllare l'orologio ansiosamente per tutto il tempo e poi decisi di valutare io stesso la sua ferita dal momento che non ero occupato con altri pazienti. La ferita risultava ben guarita. Parlai con uno dei medici per ottenere il materiale per rimuovere i punti di sutura e lo feci. Ma mentre mi stavo prendendo cura di lui è iniziata una conversazione. Gli domandai se avesse un altro appuntamento medico, se era per questo che aveva così tanta fretta. Il signore mi disse di no e rispose che doveva andare alla casa di cura per fare colazione con la moglie. Mi informai e mi disse che la moglie era nella casa di cura da tempo perché era malata di Alzheimer. Chiesi se la moglie si sarebbe molto alterata per il suo ritardo. Mi rispose che la donna non sapeva più chi lui fosse. Non lo riconosceva da più di cinque anni. Sorpreso gli chiesi E va ancora ogni mattina anche se sua moglie non sa chi è lei? L'uomo sorrise e disse Mia moglie non mi conosce Ma io so ancora chi è lei. Mentre gli davo la mano la pelle d'oca mi è corsa sul braccio E ho pensato Questo è l'amore che vorrei nella mia vita. Commento Nella realtà tutto ci accade per promuovere evoluzione nel nostro essere E in quelli con cui veniamo in contatto. E in chelli con cui veniamo in contatto.